ciao ragazzi bentornati bene sì copvoce mega tariffa 300 giga la extra minuti sms compresi è in arrivo una mega tariffa parte fortissimo con la nuova copvoce l'attacco della leadership di veri mobile e altri ma ne parleremo prima di aver non salutato il nostro utente più veloce che è pg round 10 17 super saluto al prossimo commentatore più veloce like iscrizione campanellina mi ricordo qua tutti i social per contattarmi ti rispondo sempre tutti link amazon per sostenere il canale più sotto clicca qui se sostieni allora partiamo da copvoce questa super mega tariffa molto interessante 300 giga minuti sms a 9,99 al mese primo mese per chi passa ad altro operatore perché questa è una tariffa dedicata solo a chi fa mnp cioè portabilità e a chi è già cliente come funziona chi è già cliente potrà attivare la tariffa e passare alla extra 300 giga a 9,99 al mese invece chi farà la portabilità del numero avrà la possibilità di passare a copvoce con il primo mese e l'attivazione gratuito quindi ragazzi voi fate il passaggio il primo mese 9,99 non lo pagate 300 giga minuti sms e neanche l'attivazione dal secondo mese partono i 9,99 al mese per i 300 giga quindi una promozione fortissima chi fa la portabilità addirittura non paga né attivazione nel primo mese ma è gratis e parte con un 300 giga minuti sms senza spendere nulla dal secondo mese a 10 euro a una mega tariffa copvoce è inutile dirlo lo ripetiamo complimenti assistenza sempre sul pezzo velocità di internet fino a 100 mega quindi un 4 g quasi godibile a pieno quindi limiti di banda molto alti serietà e trasparenza soprattutto se rimani più di sei mesi con copvoce puoi avere i giga illimitati all'estero cioè illimitati tutti i tuoi giga della tua offerta sono in roaming UE quindi se io rimango più di sei mesi ho 300 giga utilizzabile in Europa cioè è una super notizia è una mega tariffa veramente perché tu hai la possibilità rimanendo ovviamente fedela con voce questo diciamo diciamo il vincoletto giustamente che c'è più di sei mesi con voce ti dà tutti i giga utilizzabili delle tue offerte 100 200 350 all'estero quindi ti troveresti comunque una tariffa veramente con tantissimi giga da utilizzare anche fuori quindi saresti coperto dalle chiamate dei giga anche in Europa non extra way extra way è tutto un altro discorso ci vogliono delle opzioni specifiche se ci sono ovviamente se no si paga per quanto riguarda comunque questa tariffa appunto anche questa possibilità in più per chi non lo sapesse oltre al costo di attivazione gratuito e supportabilità l'unico neo è che non la puoi attivare come nuovo numero ecco questa diciamo andiamo subito a prendere l'unico difetto diciamo di questa tariffa non posso attivarla se voglio fare un numero nuovo perché? perché è una tariffa pensata per portare clientela nuova in copvoce copvoce dice se io faccio una tariffa su portabilità così forte tenderò a portare molta clientela fresca mi serve fare un'entrata di clientela fresca da altri operatori quindi con 300 giga a minuto sms faccio la portabilità però non penalizzo chi è già cliente quindi se uno è già cliente copvoce le do la possibilità di attivarla perché se no chi fa la portabilità sia io che sono cliente da otto anni con te non mi dai da 300? ok 9,99 ti faccio fare il cambio tariffa non te lo faccio fare se attivi un nuovo numero se attivi un nuovo numero si parte dalle tariffe da 180 giga eccetera eccetera quelle che comunque non sono assolutamente male hanno dei prezzi comunque competitivi però sul nuovo numero non ti do questa promozione qua te la do se fai portabilità o se sei già cliente chiaramente se tu diventi cliente con un nuovo numero e paghi la tua offerta di base dopo potrai passare a questa la 300 giga quindi ti può sempre convenire fare un nuovo numero e aspettare il periodo penso dopo il primo mese non è specificato che tu possa poi passare a questa 300 se c'è se è disponibile chiaramente se tu passi oggi e la 300 viene tolta tra 20 giorni non riuscirai a passare alla 300 ma la prima occasione in cui ci sarà una tariffa nuova di copvoce tu potrai passarci quindi la possibilità poi di prendere le nuove tariffe di copvoce per chi è già cliente c'è chiaramente l'opportunità più forte c'è da chi fa la portabilità a chi è dedicata questa tariffa andiamo a fare un esame proprio della tariffa tecnico perché quello è importante beh questo è un primo numero ragazzi voi avete due possibilità o è un primo numero cioè il mio primo numero principale minuti sms e 300 giga è assolutamente una tariffa da primo numero oppure può essere una tariffa per qualcuno che utilizza internet quindi la uso come hotspot quindi uso il telefono come modem spesso quindi condivido la linea ho un router portatile eccetera eccetera con sim allora può essere che avete la possibilità di utilizzarla anche solo per internet 300 giga 999 sono forti cioè li ha poste mobile con la digital ma non è che li ha perché comunque anche veri è vero che ne dà 300 e 500 però dai 12 euro ai 15 euro quindi costano di più anche se sono full speed ed è un ottimo prezzo quindi sotto i 10 euro sono queste due poste mobile copi voce 300 giga quindi si può utilizzare anche allora io ho lo scopo di utilizzarla per internet allora ha un senso i minuti sms li ho già su un'altra tariffa non mi interessa ma se la devo utilizzare per un numero dei miei due primo numero assolutamente perché mi dà la possibilità di avere tantissimi giga ai minuti sms più che un secondo numero questo è un primo numero è un internet hotspot cioè questa è come la vedo io ricordiamoci che con voce ha le sim quindi potete attivare anche le sim ricordiamoci che con voce ha il volte quasi su tutti i modelli di telefono l'ha attivato da un po' da poco da qualche mese quindi un operatore completo no? sotto team che funziona col volte ha le sim gli dà comunque 100 megabiti pieni quindi un limite di banda molto alto un 4G pieno i giga utilizzabili all'estero completamente dalla tua offerta dopo sei mesi affidabilità e trasparenza io ho sempre detto con voce il giorno che farà tariffe competitive sarà leader e così è stato è leader? allora diciamo che Veri Mobile è quella più completa che ha le flash che ha tutte le sue tariffe fino a 10 euro ok Post Immobile resiste bene ci sono degli inserimenti che ne è salita tantissimo con quelle offerte che ha fatto quindi Kena Post Immobile Veri Mobile Cop Voce in questo momento secondo me Cop Voce con questa tariffa raggiunge Veri con questa tariffa la differenza è che Veri ha tante tariffe ha fatto la full speed quindi ti dà la possibilità di goderli un 4G 4G plus a pieno ritmo ti dà la possibilità di cambiare tariffa ha fatto la 300 da 500 giga solo dati dai 12 ai 15 euro dai 13,99 ai 11,99 quindi prezzi forti tanti giga in full speed ha tante tariffe 100 giga 120 150 la 270 ogni tanto poi la doppia poi fa le flash quindi è un operatore molto forte in movimento difficile dire Cop Voce con una sola tariffa questa tariffa Veri Mobile non ce l'ha così forte secondo me in questo è 9,99 c'ha i 270 che ci vanno vicino siamo lì però il fatto del roaming il fatto comunque dei limiti di banda attenzione i limiti di banda di Veri Mobile sono sempre 30 megabit se non c'è il full speed qui invece sono più alti però oramai siamo lì quindi in questo momento con questa tariffa secondo me Cop Voce si avvicina molto a Veri e con Veri insieme a Veri è un po' il leader dei virtuali ok forse un punto ancora in più per Veri ma siamo lì subito dopo vedo Kena e Poste Mobile Kena più di Poste Mobile ok terzo e quarto post quindi un po' questi sono gli assetti del momento soprattutto per la qualità complessiva secondo me Cop Voce nei primi due posti come qualità complessiva e affidabilità c'è anche Fast Web Mobile che potrebbe esprimere un potenziale molto più alto ha un potenziale del 30% più alto ma sta lavorando bene anche Fast Web Mobile deve snellire alcune cose ma secondo me è nei primi 5-6 un'Arabona che tenta di rilanciarsi con le novità speriamo di vedere presto nuove tariffe e non avvicinare anche Arabona che sta andando bene poi abbiamo comunque Enti Mobile Elimobile Noitel bei operatori virtuali freschi giovani con le loro tariffe che sono sempre lì pronti a darci comunque un'alternativa quelle sono le alternative valide del mondo dei virtuali che c'è che ci sono e sono importanti e sono delle alternative comunque interessanti poi abbiamo insomma li abbiamo un po' citati tutti i principali Spuso non dimentichiamo forse per trasparenza simpatia modo di pensare giovanile tariffe comunque interessanti purtroppo un po' poche Spuso è sempre nei primi 5-6 posti non ha i livelli dei primi 3-4 ma è lì comunque è un operatore virtuale che non è tanti anni che in Italia ha la sua clientela consolidata un servizio cliente efficiente tariffe chiare trasparenti si capisce tutto al volo limiti di banda 300 MB quindi altissimo 4G 4G plus godibile a pieno le sim insomma è sul pezzo ha le sue tariffe stampate lì e sono un po' per tutte le fasce ha la riserva una cosa diversa che gli altri non hanno e questo mi piace l'unica cosa è deve variare di più commercialmente fare più tariffe le flash entra un po' più nel meccanismo di quello che è il discorso italiano perché come potenziale Spuso è infinito cioè Spuso è sempre nei primi 5-6 posto comunque nei primi 6-7 operatori virtuali potrebbe essere anche più in su con un po' più di tariffe ma comunque lavora bene ho parlato un po' di tutti ragazzi quelli che sono o mobile non dimentichiamo che lì con la 300 GB 10,98 che è una tariffa continuativa un euro solo in più di copvoce e non è una flash rimane disponibile per la clientela essere attivata funziona bene è stabile è una bella applicazione sotto Vodafone quindi anche o mobile ha scelto la stabilità ma sta funzionando comunque al suo fa il suo anche o mobile non dimentichiamo lei sempre lì che fa il suo però copvoce bella mossa mega tariffa promossa la consiglio a tutti quelli che vogliono un primo numero un hotspot per internet ragazzi alle prossime ciao e grazie come sempre questa partenza di copvoce mi è piaciuta ciao